Benvenuti in Master & Servant, io sono Olle e stiamo giocando con Toscana a Europa Universalis 4. Toscana in realtà è Firenze ancora, ma fra poco sarà Toscana, almeno fra poco, fra qualche anno. La situazione è tremenda, ma non è così brutta. Ora, siamo in guerra contro il Marocco, che sta vincendo, e abbiamo una super coalizione che si è formata contro di noi. Come vedete, Napoli, il Papa, Venezia, Milano, Svizzera, Salisburgo. Se questa triggera, e è molto probabile che triggeri, noi ci becchiamo, boh, una quarantina, 40.000, 50.000 soldati in casa. Non è una cosa bella. Quindi, e Ferrara molto probabilmente entrerà, e anche Genova. Quindi dobbiamo stare attenti. Mantua no, perché sta sotto il 50%. Vediamo un po', Siena pure, potrebbe entrare. Distria no. Ok, ok, abbiamo la Provenza che non entra. Quindi c'è il rischio di Genova, Siena e Ferrara, in aggiunta a quelle che già sono dentro. Quindi dobbiamo iniziare a lavorare in modo un po' più di fino, sia per le guerre future, quindi, vabbè, dopo vediamo, sia per l'attuale. Prima cosa da fare. Raggiungiamo il main, il massimo force limit, 14, ne ho 10. 2, ah, non ci abbiamo in numero. Intanto, smettiamo di fare stronzate. E... Salisburgo 51, Svizzera 51, e cerchiamo di far uscire questi signori dalla coalizione. Ok, direi di puntare o a sgonfiare la Svizzera o a sgonfiare Genova. Svizzera 10.000 uomini, sarebbe meglio la Svizzera. Genova. Genova, Genova, Genova. Dove sei? Genova, Genova, 9.090, insomma. Allora, che però è in guerra, benissimo, contro gli ottomani, Crimea e Karaman. Quindi al momento non entra perché è impegnata lì, ma entrerà. Ok. Poi, che altro? Dobbiamo portare su i nostri uomini a più di 10.000. Però qua ho una guerra che non voglio combattere. Cosa vuoi per farmi uscire dalle scatole? No, non ti darò niente di mio, però qualcosa da qualcun altro mi sa che lo vuoi. Eccolo qua, cos'è? Compri delle trattative. 88. One rep. 20. Ok, allora escono. E vuole tutto il denaro che ho. Sì. Ok, chiuse la guerra. Intanto Castiglia, chi se ne frega, Castiglia è finita, è bruciata. Benissimo. Ora. E qua ci siamo. Abbiamo pochissimi fondi. E va bene. Non possiamo abbassare il mantenimento. Ora dobbiamo correre con le idee. Le idee mi servono due idee di influenza. Quindi devo spingere su questo. Diplorepo non mi interessa. Fire. Facciamo il fire anche di questo. E prendiamo un improve relation appena abbiamo il denaro. Così. Poi dobbiamo ritirarlo su quasi subito. Che altro dobbiamo fare? Dobbiamo fare delle alleanze più interessanti. Cioè, tenerci buonissime quelle che abbiamo. Chiaramente. Abbiamo spazio per un'altra alleanza. Austria, Savoia e Ramesburgo. Chi altro potrebbe allearsi con noi? Vediamo un po'. Allora, Ferrara. Ferrara. Ferrara non sarebbe male. Però mi sembra piccolo. Palatinato. Wurzburg. S. Munster. Essen. E' l'imperatore. Mille uomini. Nessuno. Potrebbe averne 32.000. Veramente. E' perché l'imperatore. Bene, allora facciamo qualche alleanza interessante. Proviamo a fare qualche alleanza interessante. Ferrara sarebbe molto interessata. Però, quasi quasi, io punto su S. Mi dice no. Perché? Va bene. Quindi, no. Non è vero che sei verde. Wurzburg. S. S. Cologne. Allora, vediamo un po'. Ferrara potrebbe essere una botta buona, perché così mi tolgo qualcuno che potrebbe entrare in coalizione. Quindi sì. E' palatinato o Essen. Allora, l'Austria è rivale di Milano-Venezia. Ok. Ferrara. Ok. Potrebbero essere queste due, sì. Palatinato. Andiamo a vedere quanti uomini può offrirci. 8.000 uomini. Insomma. Mi piace quei 32.000 di S. Però sono piccolini. Però mi sa che andrò lì. Cologna. 5.000 uomini. Ne può avere 6.000. Ferrara. Ne può avere 7.000 in ogni caso. Quindi non è male, in realtà. E poi sono abbastanza collegati. Quindi io direi di fare S. E Ferrara. Perché ne faccio più di quelle che dovrei fare? Perché essenzialmente... Dove sei S? Dove cazzo sei qua? Ah, perché è in guerra contro chi? Contro gli Ottomani. Va bene. Perché ne faccio di più? Perché mi permette di avere una forza più alta. Un filo più alta. Quindi... Ah beh beh beh. Ho fatto un errore. Qua stiamo lavorando su Salisburgo. Mi serve. Offrire un'alleanza. Con Ferrara. Bene. Torna su Salisburgo. Dove cazzo sei? Dove sei Salisburgo? Uh. Qua. Improver relation. Ok. Io sto tenendo le armi basse ma sono mezzo folle. Solo che devo fare delle spese e non me le posso permettere in altro modo. Improve relation. Sì. Perfetto. Poi vediamo un po'. Per aumentare questi punti. Dovrei promuoverlo. Mi serve 57.000. Con questo vado più 2. Zara muore. No, 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 no. Assolutamente no. Ok. Bene. Direi che ci siamo. Ora non possiamo fare altro che attendere che aumenti il denaro. Ferrara è alleata. Perfetto. Luca è in core. Davvero? Quindi possiamo fare Toscana? No. Ah beh, l'amministrativa. Ok. Dobbiamo arrivare a Tech 10. Chi c'è qua? Accesso militare da Portogallo, sì. Ok. Ora dobbiamo toglierci il Salisburgo dalle balle. Quando arriva a 49.000 cercherò di fare qualche inciucio. Mentre S. S. Sì. Quindi togliamo da S questo. E l'alleiamo. Sì. Bene. Perfetto. Allora. Alleanze. Cazzo. Questo è un rischio. Fermi. Chi chiama? S. 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 Questa di Shogun. Questa, questa, questa. Guerra difensiva. Chi è in guerra con S? Prima troviamo Essen. Essen è alleato con Brandenburgo, Cologne e Florenze. No. Mi dispiace. È stato uno sbaglio. Abbiamo perso anche dei punti. Maledetti. Il Palatinato. Il Palatinato non accetta più adesso. È il problema dell'imperatore, in effetti. Vediamo un po' di farci amici il Palatinato, mentre carichiamo soldi per promuovere il nostro signore. Ok. Francoforte non c'entra niente. Il Palatinato. Un Tras. Meno 10. Maledizione. Eh, sì. Assolutamente sì. Vediamo qualcun altro. Eh, ormai non ce la offre più nessuno. Tra ne i tripoli. Cazzo. Cazzo. Se è un problemino. Ma faremo fatica a arrivare lì. Ci proviamo. 57, portiamo su un'unità e poi vediamo di spingere per investire su questo. Appena possiamo. Ok, tre viso è fuori dalle balle. Venezia. Meno 200. Ci odia. Ok, andiamo avanti. Dobbiamo portare un po' su questo Improverlation e fare uscire dalle scatole Salisburgo. Almeno fino a quando il Palatinato non decide di diventare nostro alleato. Uh. Ce lo siamo giocati. Francoforte. Come è messo Francoforte? Vediamo un po'. Sarà sull'F? 8000 uomini, sì. Francoforte. Che non vedo, oltretutto. Ah, perché non c'è. Ok, Frankfurt. Dove cazzo sei? Mamma mia. Che gran casino. Dovrebbe essere da queste parti. Questo. Ok, allora. Qua non ha senso. Andiamo qui. Vediamo se riusciamo a farcelo alleato. Piano piano. Nel frattempo. Nel frattempo la coalizione contro di noi non sta aumentando. 47,73. Ma alleato a Genova potrebbe entrare ancora. Salisburgo. Perché non vai via? Ok, iniziamo a bruciare un po' di punti amministrativi. Ok, cominciamo a bruciare queste cose qui. Facciamo un... Un, 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 dovera support proclaim guarantee. Sono troppo ricchi per essere garantiti. Maledizione. No, me la fa fare. Chissà che puntavo. Ok, lo so. Assolutamente lo so. Bene. Soldi per promuoverlo ce li abbiamo. Lo facciamo. Questo ci porta su un punto in più. Ottimo. Un punto che comunque spediamo. Ok, Georg primo di S è il nuovo imperatore. Quindi l'impero sta su S. Continua a stare su S. Che ci odia. Immagino. E ha ragione. Però, fanculo. Non potevo portarmi gli otto mani in casa. Bene. 70, 63, 49. 49. Speriamo che se ne vadano, si spengono. Anche la Svizzera. La Svizzera ha una pessima opinione di noi. Noi dobbiamo tornare a Salisburgo a fare... Uh, alleanza con Salisburgo. È uscito. Good. E offer alliance. Sì, lo so. E tolgo la garanzia. Facciamo febbraio. Facciamo febbraio, 19 febbraio. Benissimo. Ok, ci dà una tregua? No, siamo alleati. Va benissimo. Ok, guardiamo prima di chiudere l'episodio. Abbiamo tutto questo blocco qui, alleato. Chiaramente stiamo spendendo un pochettino in più, perché ho una relazione in più, che andrò a chiudere quando lo spauracchio da collezione terminerà. E ci costa uno al mese in più. Quindi da 11 siamo a 10 punti. Va bene, non è un problema grosso. Possiamo investire, ma non lo faremo. Potremmo anche farlo. No? Non lo facciamo. Dobbiamo puntare questo, che ci porta giù l'aggressive expansion impact di 20. Questo è cautelativo nei confronti delle prossime conquiste, ma ci dovrebbe dare anche una mano da sta parte. Non possiamo formare la Toscana ancora, perché siamo indietro, come abbiamo visto, però siamo indietro per forza di cose. È il 1488, quindi è ancora un bel po' di anni prima del colonialismo, che scoppia nel 1500. Come vedete, Pisa potrebbe essere il candidato. Non lo sarà, ma potrebbe esserlo. Perfetto, con questo io vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo episodio, dove andremo a vedere che cosa succederà alla coalizione. Come al solito, commentate il video per farmi sapere cosa ne pensate. Ciao!